Bene, mi è andata di lusso Scusate, 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 scusate Non volevo gridare come una bestia Ehi gente, questo è Vio Ah, fatti vedere No, non si fa vedere No, non sono, questo è Leon, io sono Vio Ben ritrovati sul lato survival horror del canale Con noi siamo puntata di Resident Evil 2 Remake Dove eravamo rimasti? Allora, se non sbaglio, ok ci sono Abbiamo utilizzato Ada per inseguire Annette Poi, se non sbaglio, siamo scappati da un inceneritore Lei è rimasta ferita, sì, lei è rimasta ferita alla coscia Ed è svenuta Quindi adesso noi ci siamo risvegliati con Leon Che a sua volta si era beccato un proiettile per Ada Salvandola da Annette che le stava sparando E adesso dobbiamo andare a cercare Ada Quindi, le munizioni scarse come al solito Nulla di nuovo Eh, non ho la più pallida idea di dove io debba andare Armi? Ok, ho due granate Ho due granate, erba medica Ok, dai, sto bene, sto bene L'erba medica potrei anche lasciarla nel forziere, però Ok, devo saltare qui Nooo No, 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 ho capito Ci sono, ci sono gli uomini pesce Uomini, vabbè Un tempo erano uomini Oppure sono, erano rane Quelle cose Ebbè, ho mangiato Al Taco Bell Quegli uomini rana, avete presente? Quelli che escono da Da sotto l'acqua Oddio mio So che So che ci sono È inutile che fingi che non ci Oddio, mi sono spaventato È inutile che fingi che non ci sono So che ci sono Ok, qui mi serve la manovella A T Per aprire questo Questo cancelletto Perciò devo per forza andare di qua Ho delle granate Nel caso mi grabbino Gli uomini pesce, intendo Quindi dovrei riuscire a pararmi il culo Come fa la spazzatura a finire qua? Cioè, cos'hai? Mi vuoi dire che le buttano nel water Poi tirano lo sciacquone E si fanno questi cumuli Come fa a finire sempre nel cesso la spazzatura? Ho sentito qualcosa? Oh, oh, ho sentito qualcosa Ho sicuramente sentito qualcosa Sto cercando di capire se ho sentito Cioè, se è qua Oh, oh, oh Lì sembra qualcosa Ok, no, no, no Non c'è niente È solo il riflesso Cos'è questo? Uh, munizioni per il fucile? Eh, munizioni Munizione sarà No, munizioni, dai Siamo fortunati Munizioni Due colpi Munizioni Ammazza Sembra Sembra Sapete chi? Coso La mummia Come quello si chiama? L'attore mi sfugge il nome però Uguale Teneva il fucile così Madonna Che bei ricordi La mummia E chi dice che non è Il miglior film di sempre Della propria gioventù Non capisce un cazzo di cinematografia Dai, la mummia Uno dei migliori film Ma esistiti La mummia uno e il due È la tomba dell'imperatore dragone Eppure era bello Però dai La mummia uno e due È tanta roba Tanta roba E grazie a quel film Se odio i pelati Odio i pelati Perché ho visto la mummia Questo qui Dovrebbe essere Oddio C'era il nome di questo tipo? Ah no Non c'era il nome Frank Non è che mi mordi No Videocassetta No, non mi interessa So già quello che è successo Non dovrebbero alzarsi Almeno Nello scenario di Claire Non si sono alzati Quindi Non dovrebbero alzarsi Però sembrano Hanno un hitbox Quindi questo probabilmente Si alza Più in là Oh 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 Finalmente un po' di compagnia Sai iniziavo a sentirmi solo Boom Non gli ho fatto un cavolo Non gli ho fatto una caspiterina di niente Non hai un braccio Frank Sei sicuro di volerlo fare? Vediamo No No E' cattivo E' cattivo Wow Come fai a fare ancora rumori senza bocca? Vabbè Oh Qui mi serve una chiave Ok Posso inserire Oh Questo si rialza Mi sa Eh sì Mi sa proprio che si rialza Frank Frank Sicuro di essere morto? Io non mi fido di te Quello Di sicuro non è morto Se prendo il pezzo Oh Forse 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 riesco ad usciterlo No 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 Fermo 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 Ah no In ogni caso Pensavo di tirare tipo il ponte E farlo cadere Oddio Oddio Qua pure mi serve una chiave Ciao bello Ah Scendiamo No Adesso si Adesso si Ci saranno di sicuro Gli uomini pesce Questo cos'è? Ho un coltello Allora se mi ha dato pure l'arma Di Da difesa personale Per forza ci saranno dei cosi Controllo se ci sono delle granate O comunque delle munizioni Così Perché All'inizio Cioè a prima vista Non si vedono Ma se ci avviciniamo Compare la freccia E riusciamo a prenderle Di qua No Volevo solo esaminare Eh hai detto bene Siamo nella merda Fino 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 alle cosce Fino al collo Non ho anche Ok Ok ci sono Ci sono Sì 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 Ho appena sentito uno Ok c'è anche L'erba per Curarmi L'avelenamento Quindi sicuramente c'è Un uomo pesce Dov'è Dov'è Eccolo Allora Proviamo a doggiare Ad attirare il suo attacco E poi a doggiare Dov'è È nel posto in cui è affogato Oppure più in là Lo troverò Oh Oh È lì È lì È lì Ok Eccolo qui Frank attaccami Frank Ah Attacca Attacca E Non lo so Cosa Caspita Ok Oddio Mi ha preso Non pensavo Mi prendesse Piano B Geronimo No no Non sono nelle condizioni Di affrontarlo Assolutamente Non ho intenzione Di farlo Sto bene così Grazie Ci vediamo Nel prossimo video Ciao bel In realtà mi pare Che dovrò Riattraversare No Tanto non può salire Di qua In realtà Sono abbastanza convinto Che dovrò riattraversare Oh Riattraversare Quella Quell'area Quindi lo rincontrerò Più in là Una funicolare Una funicolare Che Ha problemi di elettricità Da quel che vedo Gravi problemi Di cortocircuito Molto gravi Diciamo che La folgorazione Potrebbe Rappresentare un problema Per noi Oh cavolo Quello schiaffo Che mi ha tirato In faccia Veramente Mi ha 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 spaventato Non me l'aspettavo Non mi aspettavo Mi colpisse Più che altro Mi sembrava Troppo un dodge fig Qua non la devo utilizzare No Non la devo utilizzare Ok Nessun problema Oh Armadietto Jumpscare No Ma come faccio A sapere la combinazione Per cosa mi hai preso Un computer Oh magari c'è qua Copia delle mail Dottor Owens Le alarmi stanno scattando In tutto il nest Bla 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 Vabbè Dai leggiamo Non so cosa stia succedendo Sento degli spari Non riesco a raggiungere I responsabili della mia sezione Siamo in trappola Abbiamo bisogno di aiuto È al più presto Direttore Owens La situazione qui è critica Il nest è stato contaminato dal virus È incredibile Il sistema d'emergenza Non si è nemmeno attivato È opera di esterni? Non riesco a immaginare Chi possa essere stato Ma perché? Meyer e Kim sono morti Non riesco a smettere di tossire Perché non mi risponde? Direttore Owens È lei È sempre stato le Ed è diventato uno Zumba Ok Scendiamo Scendiamo due volte L'ascensore è rotto Video 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 Che hai visto? Sento ringhiare Neanche a me Ad essere onesti Neanche a me Non dirmi che qualcuno Lì c'è Ada Quindi Non è che qualcuno sta cercando Di avvicinarsi a mangiarla? Ada Mi amor Eh mi sa che sono Dall'altra parte del cancello E se Apriremo Dovremmo correre Altrimenti se la sbranano Per bene Sono zombie quelli Sicuramente Volentino Impresa fognatura Ok Questo è quello La parte degli scacchi Questi me li tengo Il coltello me lo tengo Prendi Combina Ok Polvere da sparo Mi servirebbe Dalla polvere da sparo Gialla Farmi le munizioni Del fucile Però Non sempre Possiamo avere Qualche vogliamo Ok mi serve Uno Due tre pezzi Uno so che era Al ponte Poi dovevo Sì dovevo risolvere L'enigma Come cavolo si faceva Ok devo andare Di qua Per forza Questa è una carta Una mappa Una cartina Ho visto Delle munizioni Come ho fatto A non vedere Delle munizioni Dove sono Meno male Che l'ho vista Sulla mappa Quattro Guardiamo meglio Qui che cos'è Spinotto 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 Preselette Spinotto No no Spinotto Giusto Spinotto Spinotto Wey Spinotto Zumba No zumba No party Qui Devo tirarla Devo palesemente tirarla Oh E beh Se è una leva Devo per forza tirarla Su questo Non ci piove Quello Non mi sembra Proprio morto Morto Anzi Mi sembra Piuttosto vivo E' un finto morto In realtà E' vivissimo Mi chiedo Che cosa c'è In quella cassaforte Nella Nel scenario di Claire C'era Il potenziamento Per Il potenziamento Per il fu Per il fucile La combinazione Era 2 12 8 C'era potenziamento Ma non per il fucile Per la pistola Quale era? Già me lo sono già Dimenticato 2 12 8 Quindi 2 12 8 Cosa c'è? Calcio V870 Per il fucile? Uh Ora si che è bello Il mio fucile C'è ma cos'è? E' un fucile dell'Ikea Cioè Dall'essere una Doppietta Ma neanche doppietta Dall'essere un Come quello si chiama? Un super shorty Come si traduce in italiano Un super shorty Dall'essere un pisellino Di fucile a pompa E' diventato proprio Un pisellone Cioè Cioè abbiamo un carro armato Adesso Abbiamo montato Come all'Ikea Praticamente Pezzo per pezzo Oh questa mi serve? Non è un attrezzo Un bel mondo Madonna Mi ha spaventato Nota di Claire Leon Ci metterò un po' più di tempo Del previsto Ho incontrato una bambina E se non le avessi aiutata Non me la sarei mai perdonato Vai avanti Doveresti essere già fuori Dalla città A quest'ora Che cazzo stai dicendo? Cioè allora se Lui è già fuori Dalla città A quest'ora Che cavolo Lasci la nota? Spiegami un po' Demente Comunque Doveresti essere già fuori Dalla città A quest'ora Di nuovo Non preoccuparti per me Ce la farò Te lo prometto E invece Non ce la farò Tua sorella Qui? Hai ricevuto a consegna Cassaforte ignifuga La combinazione scritta sul lato E per la cassaforte che abbiamo Che abbiamo aperto prima Per il calcio del fucile Allora Qui ci serviva il braccialetto Nello scenario di Claire Il braccialetto ce l'aveva Bimba lì Sherry Invece qua Chi è che ce l'ha? Ah non lo so Non ci ho mai giocato Quanto sono coglione Mi stavo sprendendo le meningi Dov'è? Dov'è che l'avevo trovato? Ah è vero Io non ci ho mai giocato Nel scenario di Leon Che coglione Allora Zumba Uh zumba Nara 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 Boom Oddio mio Mi ha spaventato Bastardo Oddio mio Non lo so Questo gioco Ha un'aura Un'atmosfera Che veramente Qualsiasi jumpscare Per quanto stupido sia Mette una paura tremenda Che è successo? Oh no 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 Ci ho ripensato Non voglio andare lì Anzi no Ci voglio andare Però qui mi pare Che trovavo una granata Se ci andavo abbastanza Qui in fondo Qui da qualche parte Oh eccola qui Ah Che bello avere una memoria Quindi ho tre granate E un coltello Diciamo che Con l'autodifesa Non sono messo proprio male Il fatto è che Non so se devo andare di là Oppure scendere le scale Quello lì Si alzava Ad un certo punto Sono piuttosto sicuro Che si rialza Vabbè Per ora non è un problema Quindi posso andare Andiamo Dov'è qui? Usiamo l'attrezzo Intanto Puoi usare anche le dita Infili la mano E giri E comunque Il cancello si apre Sì ovviamente sto scherzando Allora Qui Sì Se non sbaglio Lì andando di là Trovo Il fucile elettrico Ma tu sta che non ho Molto spazio Nell'inventario al momento Forse ho troppi oggetti curativi Devo prendere un po' di danno Queste sono le chiavi Per Quelle porte Che prima non riuscivamo ad aprire Se vi ricordate Oddio Io non ci scendo lì Non ancora perlomeno Eh perché ci sono tipo Due o tre Cosetti Molto cattivi Vediamo se c'è Se mi importa No è rotto Mierde Shit Ok non si Non si va di là Perché Per il fucile Mi sono due spazi Però mi ricordo Che c'era anche A parte il fucile C'era anche Coso Come cavolo si chiama Mh Mi sarei Lì I pezzi di scacchi I spinotti Mi ricordo Che c'era quello Del re E della regina Qui si trovava Intanto posso utilizzare Quell'erba verde Che ho trovato Che vedo lì Intanto E mi ricordo Che c'erano due cosetti Molto cattivi Oddio mio Vai a cagare Che diavolo era quello? Non so Un ratto Che si stava cibando Dall'interiore di quel tipo Oddio Ma è sempre peggio Oh ma mi sta imitando Solo io dico Oddio mio Solo io dico Oddio Sì è vero Più andiamo avanti Più bestie vario Varie troviamo Cioè veramente Qui rusce Attacca Attacca Ok Non vedo l'altro Lo sento ma non lo vedo Ok lo vedo Lo vedo Ok No 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 Non fare l'attacco lì indietro Oddio Sono in trappola Aspetta Frank Aspetta Come? Dio mio Arancione Sono arancione Sono al rischio Sono al rischio No Lì ce n'è un altro Oh cazzo Ciao bello Ah No 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 Non mi seguire Non mi seguire Non mi seguire Frank Fai il bravo Fai il bravo Andremo d'accordo Oh cos'è Oh pensavo mi avessi seguito qualcosa Qualsiasi cosa fosse Ok Sono di nuovo in pericolo In attenzione volevo dire Vabbè in pericolo Lo sono dall'inizio partita Quindi Dall'inizio della run Per ora Andiamo avanti Allora C'era un modo per aprire Questo coso Ma non sembra Quello elettrico Sembra più un lanciafiamme Vabbè intanto Facciamo l'enigma Allora Raccoglievo qui Cosa Non me lo ricordo neanche Vediamo se sulla mappa ci sono oggetti Presa elettrica Ah no Ce n'era uno solo Lanciafiamme Sì è un lanciafiamme Regina 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 Ok Quindi qui utilizziamo la regina E mi ricordo che c'era anche uno zombie Qui da qualche parte Eccolo qui Il simpaticone Che cadeva Non appena Non appena Non appena Come faccio a Prenderlo Ah sì Saltavo giù Qualcosa del genere Ora cade Non appena arriverò qui Qui che cosa c'è? Ah è pure il re Allora vedi che ricordavo bene Oddio mio Tu chi sei? Non ti ho visto prima Brutto bastardo Eh no Volevo chiuderlo là dentro Però Mi ha 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 Buon appetito Ah che buona E Buono eh Delizioso Me lo auguro per te Allora Prendevamo il pezzo di scacchi Poi c'era una cosa particolare Tipo Qui E non mi ricordo Tanto bene Qual bastardo di uno zombie Avete visto? Stavo andando verso destra Ho cercato di prevedere la sua direzione Invece lo stronzo mi ha Mi ha fregato Perché ha fatto We Eh eh Volevi? Ha fatto il gioco di caviglie E mi ha fregato Allora Prendiamo il pezzo di Regina Eh raga Sono troppo stupido Non mi ricordo Ammetto le mie debolezze Eh no Così sto tornando indietro Mmm No Voglio quel lanciafiamme E nessuno mi impedirà di averlo Ma forse era Ma se Ma no Aspetta Cretino Madonna Quanto sono stupido Il re Potevo metterlo lì Lì c'era il re Non c'era la regina Deficiente che non sono altro Mi 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 chiedo chi è che ha progettato queste stronzate Cioè Veramente Non sembrano molto Pratiche Queste serrature Qui mi pare che servisse il re Non il Non la regina Eh sì Mamma mia Quanto sono Sono scemo Mi complico la vita in questo modo Un po' come un deficiente Sono Ah mi sto lanciafiamme di merda Lanciafiamme Oh no Dici Non avrei mai pensato Che si utilizzi così Lanciafiamme Non avrei mai immaginato Ma meno male che c'è questo tutorial Che mi ha illuminato Se no Non ci sarei mai arrivato Non ci sarei mai arrivato Grazie a Dio Che il gioco Oh qui Ah erba Erba blu Che il gioco Pensa a me Grazie a Dio Queste complicazioni inutili Cioè del tipo Potresti tranquillamente Infilare la mano Attraverso la La grata Prendere il pezzo No no Complichiamoci la vita Complichiamoci la vita Perché no Allora Adesso Un lanciafiamme Sull'uno Mi chiedo se Faccia più danni Per Contro Contro i rospi Che sono dentro Le fogne Però Usare un lanciafiamme Dentro le fogne Con tutto il metano Che c'è Non mi sembra un'idea Molto Molto saggia Però Chi sono io Per giudicare Sulla saggezza Di Leon Scott Scott Michael Kennedy Allora Comunque Oh Salvataggio Comunque c'era scritto Che più a lungo Terremo click Più Intense saranno Le fiamme Vabbè Penso che Qualunque Essere vivente Sulla terra Poss Sia in grado Di immaginar Mi chiedo Se quello zombie Sia salito Dall'acqua Mi ricordo Sì Brucia Non sembra avere Molto effetto Oddio mio Mi ho quasi preso Non sembra essere Molto potente No è morto È morto Sembra essere Più potente Di quanto pensassi Tu invece Mi lasci stare Che dici Dove sei Non lo vedo Allora Bisogna tenere Gli occhi Aperti Nene Nere 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 Oddio Mi ha spaventato Quella vescica Sul muro Mi ha spaventato Nere 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 Allora Guardiamo la mappa Ok Grazie Molto utile Questa mappa Nere 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 Porca troia Dove Chi No 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 Sta Sta rilasciando i cosi No no Quelli là se mi raggiungono Mi fanno danno Via 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 Saliamo saliamo su Saliamo su Oh Un elmetto Non posso indossarlo La sicurezza Prima di tutto Ah eccolo qua Oh ecco ne due Qui mi ricordo Che ce n'era uno Non giocare Non fare l'infame con me Mi ricordo benissimo Che ce n'era uno qui Vai Vai bello Oh Eccolo qua No 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 Gesù Via 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 Prima che si rialzi Quello scemo Le scale Le scale Frank Alla prossima Bellissimi Tanto qua non ci torno più La mia avventura qui è finita È stato un dispiacere Avere a che fare con voi Ciao belli Ciao belli Allora Qui No no Non ho intenzione di utilizzare L'altra Oh Dio mio Quelle bestiole Che rilasciano Quello si sarà rialzato Me lo ricordo ancora Questo jumpscare Me lo ricordo benissimo Ah 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 Merda Eeeh Gnei 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 Che proprio stupido sei Ci vediamo Ci vediamo Non freghi No La vecchia volpe La vecchia volpe E voleva fare qualcosa Aspetta 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 le scale No Vasca di trattamento Come arrivava la stanza di monitoraggio Allora Torriamo la stanza di monitoraggio Ora che ho i due pezzi Così provo a lasciarli lì E poi devo recuperare L'alfiere sul ponte O quello che era Mi pare fosse un alfiere Mi pare Non ne fui completamente convinto Intanto Liberiamoci Della varia roba Che abbiamo No Innanzitutto no Utilizziamoli va Intanto utilizziamoli a muzzo Così come capita Tanto Mal che vada Li cambio dopo Intanto c'era scritta la guida C'era scritta da qualche parte Non mi ricordo sul muro Sulla guida Da qualche parte Sì qui c'era scritto Come bisogna posizionarli Quindi Liberiamoci un po' di inventario Lasciamo questo Lasciamo questo Questo ce l'abbiamo Abbiamo due granate Quindi lasciamo il coltello L'attrezzo mi servirà Le chiavi mi serviranno Posso lasciare la pistola Perché Eh Potrei farmi delle munizioni 9 mm Se non fossero così Schifose Vabbè dai Andiamo avanti Non importa No Dovrei salvare la partita E come torno lì Mi sono dimenticato Di prendere il pezzo L'avrei dovuto prendere Porca miseria Come torno lì Andando di qua No Ma che vado si tornava lì Fessura monopola Ah di qua non si può andare Perché era rotto Vabbè intanto andiamo Cioè veramente per uno zombie Ho già usato 64 proiettili Ha così poche munizioni Questa lancia fiamma Cioè le consumo così in fretta Ma allora sono scemo Eh sì Eh devo andare di qua Ok sì ho capito Devo fare il canale superiore Tutto dove ci sono le rane Eh no Devo tornare da te E io che pensavo di averti seminato Meglio non doverti più incontrare Ok Certo che ce la posso fare Sì 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 Mi ha quasi raggiunto Suino Schwein Oddio mio Schwein Non ti girare Non ti girare Non ti girare No Ok a posto Ciao bello Ok sì Era di qua Sì sì C'è qualcosa di familiare qui Salivo qui Sì sì Ok ci sono È la strada giusta La paura 90 Oh Sì tu che hai fatto lo sforzo Oh c'è uno zombie qui No è lui che ha fatto lo sforzo Ok Ma devo uscire No sto di nuovo C'è quel quadra che non mi cosa Cosa ho sbagliato Frank Non era di qua Miseriaccia Allora Fammi riaprire la mappa Fammi riaprire la mappa Stanza di controllo Lucchetto combinazione Bla 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 C'era effettivamente Oh sì 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 Ora mi ricordo qualcosa C'era una fessura Lì Una manopola T Sperando che lo zombie Non mi abbia seguito Lo stronzo Con il gila Riflettente Vediamo se riusciamo A baitare il suo attacco Ok Forse non mi attacca Ma si è rimbambito Oh no no Non si è rimbambito No 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 Gli è tornata la fame Gli è tornato l'appetito Oddio mio Ne arriva un altro Ne arriva un altro Corri Corri Non ti distra Non ti fermare Che ti picchio Credo che Credo che se ti fermi L'ultimo dei tuoi problemi Sarei io Che ti picchio Picchierei il tuo cadavere Digerito 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 E cagato via E picchierei anche alla rana Che mi ha fatto perdere tempo Zumba Niente zumba No Oh munizioni Oh che bello Oh sono tre colpi addirittura Ma cos'è questa generosità Cos'è tutta questa generosità Questo dove mi porta Questo mi serve ancora Sì mi serve ancora Non so voi Ma quello lì Mi sembra piuttosto vivo Brucia 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 Forza Sbrigati a morire Sbrigati a morire Il rullino mi serve per Immagino per il lucchetto Combinazione Però Socio Ma allora Dobbiamo discutere Stavi andando a fuoco Dove l'hai preso l'estintore Ma muori Grazie Grazie Madonna Cento e passacolpi Per ucciderlo Ma vi pare Camera oscura Cioè il rullino Devo andare alla camera oscura Però c'è una C'è una bella distanza Da percorrere Fino alla camera oscura Non credete Qui c'erano zombie Oh sì che me lo ricordo Qui c'erano zombie Dov'è? No? Non c'è? What? About it Oh Ehi Ehi Bellissimo Hai fame? No Ah Maledetta precisione Prenka avvicinati Più in fretta Più in fretta Così esplode bene la granata Per tutte e due Vai 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 Più vicino Bastardo Bastardo Pensavo di farne fuori due Con una granata invece Non mi è andata così bene Come speravo What about it? Questa la devo utilizzare qui Se non sbaglio Zombie? 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 No zombie? Ok a posto Uh Polvere gran Uh Quello che volevo Sei colpi Addirittura Addirittura sei colpi Io che me ne aspettavo 50 Tipo Sai come? Polvere da sparo grande Tecnicamente a casa mia Vuol dire quello Però Però Evidentemente Non a casa tua Considerando che ci troviamo A casa tua Vinci tu Ah di là non potevo andare Alla fine Quindi sì Ok Ora mi ricordo Ero sceso di là Sì 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 ci sono Ci sono ci sono Ero sceso di là Ero caduto giù Per sbaglio Ma in realtà Era l'unica strada da seguire Pensavo di dover andare dall'altra parte Invece era la strada L'unica strada da seguire Eh due colpi di fucile a pompa Ho sprecato E due granate Ai 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 Mannaggia a me Mannaggia a me Adesso la posso buttare la chiave Sì Zumba? 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 No zumba Questo mi pare che lo posso spostare Sì dall'altra parte però Spingi Spingi Ok ZF SZF Ah La combinazione del lucchetto SZF Ora ci sono Oh mi piace Vuoto Che drishtez Oh Quindi SZF Però dove porta questo ascensore? Dove porta questo ascensore? Che non mi ricordo E' che mi volevo tenere lancia a fiamme per un boss Invece ho quasi Ho già quasi finito le munizioni Questo? Oh Cinque colpi Bermanium Oh 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 E qua? Dov'è che portavo questa Questa Ah qui c'era Coso Dovevo utilizzare il distintivo Però che cosa c'è qua dentro? Dov'è cosa sembrano queste cose? Sembra Sì Vabbè che siano pezzi di ricche Pezzi di Modifiche per le armi C'ero arrivato Però Qua Per quale arma? Sto chiedendo E' un forziere qualcosa? Niente Dove sono? Sono già passato di qua? Sì Strano Non mi ricordo questa parte No allora No allora Ah sì sì Ora mi ricordo Di qua si saliva E si tornava la centrale Ok ci sono Di qua si tornava la centrale Però quando è che si è aperta quella porta? Boh Non mi ricordai Allora Riscendiamo Purtroppo non ho il distintivo E rimarrà un mistero Per la prossima avventura Come hanno fatto a portare un transpallet Fin qui Per le scale Voi sapete quanto pesa un transpallet Miseria Capito che doveva sembrare un deposito però Allora ero qui per raccogliere lo spinotto No no torniamo Torniamo lo spinotto Prima di tutto Ok Ora tutti gli spinotti Come che si tornava fin su? Così Allora se mi ricordo SZF 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 Per il look che Oh Gesù Non pensavo di doverci tornare Invece ci devo tornare Oh Gesù Oh no 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 Diavolo Facciamo così Lo facciamo uscire Magari Riprocchiamo l'agro Vediamo se riusciamo a farlo attaccare No Cretino Oh Bene Mi è andata di lusso Avanti Scusate 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 Non volevo gridare come una bestia Tutto è bene ciò che finisce bene Ok abbiamo tutti gli spinotti Boh no no Io non ci torno Non ci torno a prendere le modifiche Per Per qualsiasi Arma ci fosse lì No 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 basta Ho rischiato troppe volte Di essere mangiato da quelle bestie Allora Gli spinotti Vediamo se mi ricordo Vabbè non mi ricordo Non c'è niente da vedere Se mi ricordo Non mi ricordo È inutile che maschera Non mi ricordo Una ceppa Intanto lasciamo questi Perché per ora non mi servono Ah ho più munizioni per la magnum Non è che le ho utilizzate Me ne ricordavo altre 5 Vabbè Deposita Questo mi serviranno Tutto il resto mi servirà Questo otteniamolo Allora vediamo Sbloccare la porta dell'arena U Dai zitto La torre è di fianco al cavallo Ma non di fronte alla regina Il re non è di fianco alla regina Ma di fronte al cavallo In fondo Il cavallo non è dove dovrebbe essere Il cavallo non è dove dovrebbe essere Allora il cavallo Non è dove dovrebbe essere Iniziamo dal cavallo Cavallo Ok Prendiamo il cavallo E qual è Allora la torre è di fianco al cavallo Quindi la torre è di fianco al cavallo Dove è la torre? Secondo voi dove è il cavallo? Ah ma alcune erano già indicate Quindi Alcune erano già indicate Questo è per il pawn Quindi La pedina per forza Questo è giusto per forza Qui Qui No manca Qui Manca Il cavallo non è dove dovrebbe essere Che cavolo dici? Quindi c'è cavallo Quindi cavallo Cavallo è dove dovrebbe essere Zitto Qui non c'è E qui non c'è Quindi prendiamo La torre è di fianco al cavallo Ha detto Sì Ha detto giusto La torre è di fianco al cavallo Ma non di fronte alla regina Quindi la torre è di fianco al cavallo Per forza qui Ma non davanti alla regina Quindi la regina è per forzare il suo fianco Regina Usa Ok Poi cosa diceva? Il re non è di fianco alla regina Ma di fronte al cavallo In fondo Quindi qui va il re E qui va l'alfiere Giusto? No Andiamo Andiamo Cosa andiamo? Stai zitto Ah sparisci il sottotitolo Che non riesco a leggere Sono sbagliato Il cavallo non è dove dovrebbe essere What the fuck? La torre è di fianco al cavallo E ci sono La torre è di fianco al cavallo Il re non è di fianco alla regina E il re non è di fianco alla regina Ma di fronte al cavallo In fondo Ma di fronte al cavallo In fondo Il cavallo non è dove dovrebbe essere Ma allora Mi stai mentendo Il cavallo non è dove dovrebbe essere Che diavolo significa? Ma è strano che il cavallo non sia dove dovrebbe essere Perché qua dice cavallo Mi fa molto strano Torre è di fianco al cavallo Ma non di fronte alla regina Questo è l'alfiere Ma sì proviamo così allora Inserisci Facciamo così No 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 Qua mettiamo il cavallo Se non è dove dovrebbe essere Proviamo così Se ne sei convinto E allora devo spostare il re Però non è in fondo Così sarebbe al centro il re E mi fa strano E così anche il pedone Non è dove dovrebbe essere Fa molto strano sta cosa Vabbè proviamo Non mi costa niente Eh no Sbagliato Senti non mi devi prendere in giro Il cavallo Non è dove dovrebbe essere Allora dov'è che dovrebbe essere Devi dirmelo tu Allora Riproviamo La torre è di fianco al cavallo Ma non di fronte alla regina Magari il cavallo va qui Qua ci mettiamo la torre La torre è di fianco al cavallo Ma non di fronte alla regina Quindi non è di fronte alla regina Il re è davanti al cavallo Questo c'è Qua ma non di fianco alla regina Quindi qua mettiamo la regina E qua mettiamo l'alfiere Ah Ce l'ho fatta Era un inganno della cadrega allora Ok ci sono quasi Ada Ada però sentivo dei versi di zombie prima Ma non erano zombie Mi sa che era Williamino lì Eh sì mi sa proprio che era Williamino Birchino Williamino Birichino Perciò mi sa che mi conviene Salvare la partita Perché qui mi ricordo Mancava la corrente E noi dovevamo attivarla Andando di là Dove c'era Eh no 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 Vado a salvare la partita Arrivo subito Qua era chiuso Sì Vado a salvare la partita Perché adesso mi aspetta L'epic boss fight Contro William Birichino Però 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 Mi sa che rimarrà Per la prossima puntata gente Quindi Salutiamoci per ora Vi aspetto nella prossima puntata Dove affronteremo William Birichino Grazie per avermi guardato fin qui Mi auguro di guardare Nella prossima puntata E ricordate di lasciare un commento Un like Iscrivervi al canale Magari condividere con i vostri amici Vi auguro una bellissima serata Bella bella